Spero che la premessa di questa mattina non sia stata pesante e noiosa, ma era necessaria per poi arrivare a percepire e a capire un po' il mio metodo di affrontare il progetto, che suddivide innanzitutto il progetto in tre parametri. Sappiamo benissimo che quando noi andiamo a progettare uno spazio di vita abitato, noi abbiamo i comportamenti che accadono all'interno di questo spazio abitato. Quali sono i comportamenti? Dormire, mangiare, andare al bagno, lavarsi, soggiornare, quindi vedere un film e quant'altro. In base a questi comportamenti noi suddividiamo lo spazio. Poi c'è la situazione percettiva, quella delle sensazioni, che è un altro modo di progettare. Cioè, come faccio a progettare quelle sensazioni? Ho bisogno di stare tranquillo, quindi io devo progettare uno spazio che esprima tranquillità, oppure uno spazio che esprima altro, quindi che lavori comunque con delle sensazioni di chi fruirà di quello spazio. E poi noi progettiamo con gli elementi spaziali. E quali sono questi elementi spaziali? Le soglie, il vuoto, il pieno, lo spazio luminoso, il buio, cioè quindi anche andiamo a progettare con lo spazio. Quindi questi sono i tre elementi sui quali noi lavoriamo solitamente, quelli appunto comportamentali, quelli percettivi e poi quelli spaziali. La sommatoria di tutto questo ci porta al progetto. Allora, io personalmente, non so voi, comunque soffro di noia, di noia. La noia progettuale. Questa noia progettuale fa sì che non ripeta con uno stampino ogni progetto uguale rispetto all'altro, il che ottimizzerebbe molto anche il ricavato, cioè nel senso la parcella, perché penso di meno il lavoro a livello seriale. Cerco di fare ricerca, perché sono appassionato, così come tutti voi, del mio lavoro e quindi cerco di leggere ogni volta quello che è il luogo, quello che mi richiede il mio committente e quella che poi è la mia interpretazione finale, insomma, che è un po' la sommatoria di tutte queste richieste. Quindi andremo a vedere i progetti a seguire che sono totalmente diversi l'uno dall'altro, ma sono diversi per questi motivi, perché i luoghi sono diversi, perché le persone sono diverse, perché le esigenze erano diverse e anche le richieste. Questo è un progetto che non è un progetto di un bagno, ma che andrebbe benissimo all'interno di un bagno. È il progetto di un rivestimento ceramico che potrebbe rivestire una parete anche di un bagno, come di una cucina, come di un altro ambiente. Ecco, è un progetto che io feci quando avevo 30 anni e in realtà tutti gli elementi numerici sono scomposti in quanto il concetto che si voleva affermare è che il tempo non esiste, ma il tempo appunto è un'invenzione degli umani. Quindi feci questo gioco grafico che venne messo in una piccola produzione seriale, poi terminata, ed è diventato quindi un rivestimento murario, che potrebbe essere anche il rivestimento di un bagno. Parlavamo prima di storia e abbiamo fatto delle citazioni su vari popoli nel tempo e su come si è evoluto l'ambiente e il bagno. Ecco, mi trovo a progettare un podere in Etruria nel 2018, stavamo a 700 metri da tombe etrusche. Essendo a 700 metri da tombe etrusche, quindi visitando le stesse tombe etrusche, ci sono questi affreschi. Affreschi con i tipici colori naturali che gli etruschi utilizzavano, il rosso, che chiamiamo a questo punto rosso etrusco, il nero, come vediamo, delle capigliature, il celeste e il giallo ocra. Non che c'è anche un tocco di verdino. Stavamo a 700 metri, per cui questo affresco è stato d'ispirazione ad un progetto contemporaneo di riqualificazione di un casale. Quindi a cominciare dalla parte esterna che è stata riqualificata con le nuove bucature, nuovi tagli sul prospetto. Vediamo queste bucature in nero, ma andiamo avanti perché non sono quelle il tema di progetto. Questo è lo spazio interno, andiamo ancora avanti per arrivare poi a dei bagni. A dei bagni che vengono, in questo caso non stiamo vedendo né le parti che connotano il bagno, però stiamo all'interno del bagno. Quindi è stata integrata nella parete una lastra più lastre di grass ceramico, ovviamente a basso spessore perché oggi la tecnologia ci permette di lavorare anche su spessori da 3.5 mm. e quindi sono state integrate nella parete. Questo fa sì che non abbiamo nessun tipo di scalettamento e di conseguenza anche la pulizia è molto più semplice. Le grandi lastre di ceramica permettono di non avere fughe e quindi far sì che non si annidino corpi estranei all'interno delle fughe. Il mio lavoro è stato quello di ridisegnare questi bagni all'interno anche lavorando in connessione con la ceramica e con la pittura. Come vediamo quella linea rossa che ritrovavamo in quel dipinto torna all'interno di questo progetto come? Torna come battiscopa, come vediamo qui in queste parti, forse eccolo qui, torna come battiscopa ma ritorna anche in questo piccolo bagno che sarebbe il bagno dell'ospite dove noi all'interno abbiamo questo tipo di disegno. In un altro bagno, sempre dello stesso potere, in pratica il rosso invece ritorna come vuoto, quindi quasi come oggetto scavato all'interno della materia e sempre come battiscopa. Ecco qui uno zoom su questo elemento. Ecco, qui stessa cosa, questo è gress e qui invece è semplicemente colore. Stessa cosa nel bagno dei ragazzi, quindi gress e invece la parte che va verso l'ingresso del bagno è colore. Ecco, in questo caso vediamo il bagno quasi nella sua interezza con la doccia e con altri elementi. Ulteriore progetto, Casa al Portonaccio 2017, è un progetto diverso, un progetto che nasce in un edificio progettato da Transit Studio di Roma. Questo è un duplex, quindi si lavora su un altro materiale e si lavora su un altro progetto. Qui c'è il ferro, ferro e legno che sono l'anima di questo progetto. Quindi ferro e legno, va a rivestire tutta casa per poi arrivare fino al bagno, fino al bagno di progetto, compreso questo mobile che io ho immaginato quasi come una microarchitettura, quasi come un edificio sollevato appunto da terra, quindi su piloti e poi insomma rivestito in questa maniera. Questo disegno che vediamo di questo mobile del bagno poi in realtà diventa anche maniglia, semplicemente sporgendo un po' di più sull'anta. Prima parlavamo dei bagni oggi e abbiamo visto anche dei bagni come erano negli anni 30, come erano negli anni 40 e via di seguito, dove alcuni nostri esimi colleghi hanno progettato i bagni, compreso il grande Le Corbusier, differenziando la zona del pulito e la zona del non pulito. E quindi il water viene celato appunto in una parte a sé stante, invece tutto il resto rimane a vista. Poi con il razionalismo si è integrato tutto, cioè alla fine non c'è stata più questa differenzazione, rimasta in alcuni paesi, ad esempio in Francia, continuano ad avere la salda a bagno e poi hanno invece il gabinetto che è semplicemente separato, almeno nelle vecchie case è così. Secondo me oggi come oggi dovremmo ritornare a questo, questo è un mio pensiero, poi ditemi il vostro, anzi se volete intervenire anche subito, per me potete anche intervenire, insomma apriamo un dibattito, perché si dovrebbe un po' differenziare la parte del water con il bidet e la parte invece della zona lavaggia. In questo caso, in questo bagno abbiamo una doccia sauna, anzi scusatemi, una doccia bagno turco, quindi non sauna ma bagno turco, quindi questa doccia fa le funzioni sia di doccia che di bagno turco. Poi abbiamo la parte appunto del lavaggio e quest'altra zona, divisa da un vetro, che la vediamo meglio in quest'altra diapositiva, è quella che all'interno ha sia il bidet e sia il water, quindi rimane a vista ma è suddivisa da questa vetrata. Per dire, una coppia, tranquillamente uno potrebbe andare al bagno, non è visto, perché comunque il water è dietro la parete e l'altra persona potrebbe usufruire tranquillamente della zona in bagno turco. Casa Leur, anche in questo caso, questo è un progetto del 2012-2013, insomma, le funzioni, anche se stanno all'interno dello stesso ambiente, però sono state differenziate da una finitura diversa, da un colore diverso, e qui in caso dietro i sanitari abbiamo del gress, e invece nella zona doccia è trattata resina. In quest'altro caso, purtroppo, non ho visto e quindi neanche fotografato il progetto finito. Il progetto finito, sempre della stessa casa però, è un ulteriore bagno, prevedeva cosa? Che questa zona, mi pare che se io mi metto così non vedono, così dovreste vedere però. Allora, questa zona era chiusa da un infisso scorrevole su disegno, solo che i miei clienti in quel momento avevano terminato tutto il loro budget, quindi la foto è stata effettuata senza questo infisso, che non so se poi l'avranno inserito, i disegni sono stati consegnati, ma in realtà il mio compito era finito qui, e qui era previsto un infisso. Quindi, prevedendo un infisso, poi il vetro che era stato pensato era un vetro acidato, quindi che lasciava passare luce, nonostante poi ci fossero due finestre in questo bagno, una qui e l'altra qui, però era questo vetro acidato, e di conseguenza anche in questo caso veniva suddivisa la zona dei sanitari e la zona con questa grande vasca doccia e con un grande lavabo, quindi la zona lavaggio. Purtroppo non ho visto finito, terminato questo progetto con l'infisso, ma tanto l'immaginazione è vostra, quindi non vi manca. Riprendo il concetto di prima, quindi sulla luce e sulle ombre, molto spesso cosa accade? Mi accade personalmente di avere dei déjà vu, cioè di aver progettato delle cose e poi semmai queste stesse cose ritornano dopo tanto tempo davanti ai miei occhi in altra forma. Succede che in una giornata di grandine, ero sul lungo Tevere di Roma, vengo bloccato da questa grandine perché non avevo l'ombrello e quindi non potevo uscire, quindi si appanna tutto, eccetera, eccetera, sul tettuccio della mia macchina cominciano a cascare delle foglie, dagli alberi, che si poggiano sul tettuccio della macchina. Non sapendo cosa fare in quel momento, perché ero invaso da questa grandine molto forte, faccio delle fotografie. Quindi una foto dal basso verso l'alto che riprende il tettuccio con questa foglia poggiata e poi questo fa vedere cosa accadeva in quel momento sul lungo Tevere. Un déjà vu, perché in realtà è accaduto che anni prima io avevo progettato un bagno per una grande casa che si trova al Gianicolo, una zona di Roma, è uno dei colli di Roma, un bagno che aveva un'altezza di 2,40, come da norma, l'altezza della stanza è molto di più, quindi l'altezza della stanza è 3,50 all'incirca, quindi questo bagno da 2,40 era messo proprio dietro, era diciamo più che inserito in una zona dove non c'era l'illuminazione naturale, quindi c'era un muro. La richiesta era quella di avere un'illuminazione naturale, quindi che cosa si poteva fare, si poteva lavorare con il vetro-foscemento, insomma, erano poche cose da fare, ma sempre più o meno le stesse. Quello che invece immaginai era quello di realizzare sopra questo soffitto una chiusura a vetro, quindi totalmente a vetro, dove potevano poggiarsi delle foglie o altro, dei ritagli comunque anche di carta e accendendo la luce nel bagno queste forme sarebbero state proiettate sul soffitto. Ecco, quello era un disegno, questa è la realtà, quindi, scusatemi, questo è l'ingresso al bagno, questa è la camera da letto, quindi accendo la luce nel bagno, la luce viene proiettata in alto e su questo soffitto di vetro sono poggiate delle foglie di carta, quindi crea un po' delle ombre all'interno della stanza, quasi in installazione artistica, se vogliamo. Poi quegli oggetti, cioè, oggetti, questi ritagli di carta potrebbero, mi stanco della foglia, voglio inserire i cuori, inserirò i cuori, quindi cambia l'immagine che viene proiettata. Ovviamente la reazione, invece, è forzata all'interno di questo bagno. Qui ho un piccolo video che credo dovrebbe partire, che fa vedere velocemente questo bagno. ecco, questa è l'immagine che ci interessava. Le luci ovviamente sono poste quasi verso l'alto in modo che possano proiettare solo questi ritagli e nient'altro. Qui vediamo invece altri due progetti, oltre a quelli che si basavano sul colore come volume, vediamo, ecco, sui paesaggi e passaggi. Questa cosa che, questo gioco di parole sui quali spesso mi soffermo, cioè che noi passando, attraversando uno spazio, di solito il paesaggio cambia, ma questo non lo dico io. Cioè, lo hanno detto personaggi molto più illustri, insomma, più illustri della storia, dell'architettura. La teoria della soglia, no? Lì dove c'è una soglia cambia qualcosa, quindi il passaggio non è altro che attraversare una soglia. Quando io attraverso una soglia poi c'è il cambiamento. Anche in noi stessi è la stessa cosa. Cioè, noi abbiamo una parte di facciata, cioè l'esterno che noi vediamo di noi stessi, ma abbiamo una parte interiore, quindi c'è una soglia anche all'interno di noi stessi. Come vediamo, ogni progetto è diverso dall'altro, per i motivi che vi dicevo all'inizio. Diversi committenti, diverse le situazioni, però penso che ci sia un filo conduttore, cioè l'approccio, il tipo di approccio progettuale. In questo caso era una casa totalmente disorganizzata, inizialmente bisognerebbe vedere come era. Vabbè, è stata ricuscita tramite due grandi tappeti in resina integrati nel pavimento di parquet che in questo caso il cliente ha voluto, ma io ho sostenuto, fossero gialli. Era una casa buia, quindi abbiamo fatto entrare il sole ovunque. Un po' mi sono... anche qui è un altro déjà vu, perché io penso che noi non siamo altro che la sommatoria di tante informazioni. Ritorniamo al concetto di questa mattina, quando parlavamo di esperienza ed esperimento. Cioè l'esperienza non è altro che una sommatoria di informazioni e di... oltre che di informazioni, di... proprio... di emozioni, di vita, ecco. E quindi tutto quello diventa esperienza. Io quando ho visto queste foto mi sono ricordato di un artista che sicuramente conoscete, Joseph Albers, che lavorava sul colore pieno, sul quadrato e su questi colori pieni. Ecco, Joseph Albers in realtà ha lavorato su questi colori pieni, sui quadrati. E vedendo questa foto mi sono ricordato che anni prima, molto tempo prima, avevo studiato molto appassionatamente il suo lavoro. Quindi, cosa succede? Che noi siamo una sommatoria di informazioni che poi dimentichiamo e poi al momento giusto ritornano. E' il motivo anche per cui questa mattina ho voluto fare quell'escursus storico. Ecco, quindi questa è un po' la casa. opaco, lucido, eccetera, eccetera, non mi soffermo sulla casa, ma semmai sul rivestimento che ritorna anche sul bagno. Questo rivestimento che, chi meglio di voi, non conosce questi marmi, cioè sono della vostra terra, quindi marmo di Carrara, però un particolare marmo di Carrara perché ha questa linea dorata. sì, e quindi, che cosa ho fatto? Ho cercato di mobilitare le pareti con gli inserimenti di questi marmi di Carrara che sono stati tagliati a 45 e a 75 gradi sugli angoli. C'era il marmista che voleva quasi ammazzarmi perché non capiva cosa stava facendo. Poi quando ha visto il lavoro realizzato mi ha scritto una bellissima email di ringraziamento, però lì per lì non riusciva a capire il motivo di questo impazzimento, anche perché le lastre molte si rompevano. Quindi va bene. Questo è il lavoro. Andando nei bagni, ecco qui, i bagni non sono altro che un continuum, un continuum perché questi tappeti gialli entrano anche nel bagno in camera perché nasce da una teoria che riflettendo in realtà oggi non abbiamo più tempo, non abbiamo più tempo per fare nulla, non abbiamo più tempo per avere tappeti in casa, non abbiamo più tempo per avere razzi, perché non abbiamo più tempo per avere i tappeti? Perché i tappeti vanno spolverati, vanno curati e andiamo di corsa, non c'è più questo tempo. Allora ve lo creo io il tappeto. Quindi un tappeto che non accumula polvere, che fa parte della pavimentazione, ma che è un disegno integrato e che diventa scendiletto in questo punto, ma sembra che passi sotto le pareti per poi diventare tappetino sotto il lavandino del bagno. Bagno che è rivestito solamente dove occorre, perché abbiamo utilizzato un materiale prezioso un po' in tutta casa, questo marmo di Carrara, ok, abbiamo utilizzato questo materiale prezioso, ma ovviamente non potevamo tappezzare tutta casa perché non c'era proprio il budget per farlo, per cui il marmo ha rivestito solo le parti necessarie, cioè è lì dove doveva essere. Tutte le altre pareti sono state trattate appunto con resine fino ad una certa altezza per poter permettere poi di respirare alla parete, resine bianche. Questo è il bagno di servizio, quindi trattato nella stessa maniera e con la stessa logica di questo tappeto esterno, perché erano due in tutta casa, che entra nello spazio interno. Ecco alcuni dettagli del bagno. È una casa molto buia, quindi abbiamo cercato di portare luce, tanta luce, sia artificiale sia naturale. Molti dettagli perché come vedete anche qui un impazzimento, perché c'è il legno, perché c'è la resina, perché c'è il marmo che si va a incastrare poi con il battiscopo a filo, quindi sono lavori diciamo che hanno preso molto tempo sia a me e sia all'impresa esecutrice. Ecco qui ad esempio da questa immagine percepiamo anche il taglio a 45 che vi dicevo che poi si va a connettere a quello a 75. Un'altra casa, questa del 2012, questa trattata in maniera diversa per persone diverse, in un luogo diverso di Roma, Roma è molto grande, quindi va dal mare quasi alla parte interna, alla città. qui ci troviamo a Casal Palocco che è verso il mare, stiamo a un 5, a un 10 minuti dal mare di Ostia, appunto, e quindi questa casa che è stata organizzata in questa maniera è stata poi quindi con un corridoio che spacca la casa quasi in due e da una parte abbiamo la parte servita, dall'altra parte abbiamo la parte servente, che comunque sono state connotate e caratterizzate da questi due colori che sono due colori anche se vogliamo molto marini perché il colore verde, questo verde salmastro è comunque anche il colore del mare di Ostia insomma, a volte, come il celeste insomma, il colore del cielo che si rifletta nel mare. queste sono alcune parti degli interni appena terminati, quindi molto vuoti e ecco questo corridoio che spacca che da questa camera ci porta direttamente verso il bagno con porte scorrevoli. Una casa per settantenni molto coraggiosi, quindi sono state persone molto coraggiose nell'affrontare questo progetto, molto semplice ma lo stesso momento anche abbastanza forte per quella età. Quindi nel progettare il bagno sono stato molto attento senza rivelarlo ovviamente non potevo dire ai miei committenti siete persone anziane che andate incontro tra dieci anni agli ottant'anni e poi ancora più avanti e quindi è stato progettato tutto a filo tutto a filo con gli spazi utili per poter far passare anche una carrozzella quindi sono situazioni che io non ho neanche detto ai miei clienti ma sulle quali ho riflettuto in quell'epoca appunto parliamo del 2012 quindi più di dieci anni fa quando questi clienti mi avevano commissionato la casa ecco questa è la doccia completamente a filo sempre con questo linguaggio che coinvolge tutto l'appartamento e come abbiamo visto in casa al Palocco abbiamo visto anche in casa sul litorale quella con i cappetti gialli l'abbiamo vista anche in casa al Porto Naccio e in Pudere di Metruria quindi il linguaggio dell'appartamento o della residenza ritorna anche a collegare gli stessi bagni quindi è un unicum totale vabbè qui ci sono alcune pubblicazioni dei miei lavori un libro che ho scritto un po' di anni fa e che contiene alcuni progetti detto questo grazie tanto grazie a te non so ci sono delle domande osservazioni sui lavori anche le riflessioni di questa mattina abbiamo qualche minuto a disposizione volevo fartene una io ho visto che tu nei tuoi progetti cerchi sempre di mantenere una sorta di identità di cercare di dare qualcosa anche di tuo cosa che spesso succede oggi a Milano per esempio in una grande città si parla sempre di omologazione di spazi interni secondo te la direzione quale sarà in futuro? cioè quella di un'omologazione un po' di questi spazi o l'architetto deve mantenere una sorta di identità all'interno del suo progetto interni? purtroppo la tendenza oggi è quella di omologarci di essere tutti uguali a livello progettuale perché viviamo un'epoca non bellissima l'epoca della velocità dobbiamo riapprovarci della lentezza la lentezza porta a pensare porta ad approfondire un pensiero la velocità porta semplicemente a correre verso il signor denaro quando c'è e a pensare il meno possibile quindi sì ho fatto un progetto che è riuscito ok lo ripeto per altre n volte quindi questa cosa ottimizza il mio guadagno mi sono chiesto più volte se era quella la strada da seguire oppure una strada fatta di ricerca e di di studio insomma cioè di analisi poi può essere giusta o sbagliata perché ovviamente ognuno di noi ha la sua visione ha il suo modo di essere per me era giusto fare questo ma la cosa che più bella è quando dopo dieci anni dopo quindici anni trovi i tuoi clienti che sono felici di abitare quello spazio perché pensato per loro e continuano a ringraziarti perché gli hai cambiato in meglio la propria vita quindi da parte mia io credo che è giusto oggi riappropriarci di questa identità progettuale noi siamo diversi i luoghi sono diversi i nostri committenti sono diversi a me sono capitate delle richieste da parte di clienti in passato che avevano visto alcuni progetti pubblicati semani e venivano da me vorrei un progetto come questo la mia risposta forse mi rendo conto anche molto coraggiosa ma anche in quel momento proprio di impatto perché potevo perdere il cliente la mia risposta è stata ma no non può essere quel progetto perché perché tu sei diverso e vedrai che casa tua sarà ancora più bella però intanto dato che tu mi hai segnalato quel progetto io già sto capendo molto di te cioè sto capendo molto di ciò che ti piace di ciò che vorresti da me e vedrai che casa tua sarà ancora più bella perché sarà solo tua quindi questo è un po' il mio modo di pensare ancora per quella forza di combattere per le proprie idee in qualche modo oppure allora io l'ho ripetuto prima io soffro di noia questo è il mio problema cioè se io dovessi ripetere un progetto n volte cambierei il lavoro perché non mi darebbe soddisfazione non è questo il mio lavoro quindi cerco ogni volta di inventarmi sbagliando anche sbagliando perché cioè fa parte anche del nostro lavoro a volte sbagli però quell'errore ti porta a essere migliore il giorno dopo ti diverte ancora fare l'architetto hai entusiasmo quando ho progetti diciamo che esprimono coraggio con clienti che approvano quello sì altre volte vorresti ammazzarli a volte così ecco non vei